Qual è l'importanza di questa giornata? Quella di spostare l'attenzione verso una forma diversa di cura che è la prevenzione. Nel nostro paese però l'incidenza della malattia renale cronica è altrettanto importante ed è in costante e progressivo aumento con una prevalenza stimabile fra 4 e 5 milioni di individui. Ed è per questo motivo che in occasione della giornata mondiale del Rene 2017 i nefrologi dell'azienda ASL di Teramo hanno deciso di diffondere un Deplian informativo alla popolazione con il Decalogo delle malattie renali, in realtà più precisamente in cui vengono illustrati i 10 punti più importanti da conoscere in merito alle malattie renali. Quest'anno il tema della giornata mondiale del Rene è malattia renale e obesità. L'obesità infatti è un potente fattore di rischio sia diretto che indiretto per lo sviluppo di malattie renali.